Bentornati al consueto appuntamento in compagnia di fratello Francesco Zambotti, sacerdote. Grazie, ben trovato. Grazie mille, ben trovati anche tutti voi. E grazie per l'ospitalità perché siamo in una delle sale di una delle tende di Cristo che sono le comunità fondate da padre Francesco diversi anni fa, infatti c'è stato recentemente un festeggiamento importante. Sì, sono 30 anni che abbiamo dato inizio a questa accoglienza dei poveri, più poveri e quindi gloria al Signore che ci ha, diciamo così, guidato in mezzo a tante, tantissime difficoltà di vario tipo, di vario genere. Quotidiane possiamo dire. Quasi quotidiane, sì. Alcune sono state molto difficili perché sono stato anche portato in tribunale, eccetera. Quindi abbiamo passato dei momenti molto difficili. Quindi abbiamo subito una certa guerriglia, un po' da varie parti, da varie persone, anche importanti. E le tende ormai però portano il loro sostegno e la loro capacità d'accoglienza non soltanto in Italia ma lo ricordiamo sempre in altri paesi del mondo come Brasile e Messico che sono paesi anche tristemente famosi per gli episodi di violenza, di povertà, di abbandono. Sì, è proprio per questo che abbiamo fatto delle scelte anche difficili e prossimamente il Santo Padre andrà in Messico e il 17 febbraio sarà proprio a Suida de Juárez, nel Chihuahua, che di fronte agli Stati Uniti d'America, al Paso e sarò lì in quella giornata perché mi sono organizzato e avrò la fortuna e la gioia di concelebrare la Santa Messa con il Santo Padre. Un appuntamento importantissimo. Sì, perché noi delle tende ci sentiamo veramente in sintonia di lavorare, secondo le indicazioni del Santo Padre, nelle periferie esterne ed esteriori ma anche nelle periferie interiori delle persone, quelle esistenziali. E allora l'incoraggiamento di Papa Francesco è d'obbligo. Infatti questo Papa è stato fin dall'inizio, se vogliamo, innovativo per certi aspetti, rivoluzionario forse eccessivo ma nel senso particolare del termine. Ma secondo me sta effettivamente facendo una rivoluzione che non è quella chiososa, quella che si può accogliere, diciamo così, come normalmente si usa questa parola, rivoluzione. Una rivoluzione interiore che è prima di tutto fatta di un seminare continuamente, quello che, una guida, diciamo così, che lui di volta in volta suggerisce anche al popolo di Dio, specialmente nelle domeniche, al mezzogiorno, ma poi una rivoluzione anche che è un aggiornamento di mentalità, per cui si vede che nelle scelte dei nuovi vescovi si nota chiaramente che lui sceglie veramente dei pastori, delle persone sensibili ai più poveri, perché o la Chiesa è dei poveri o la Chiesa rimane povera. Abbiamo terminato, passato da poco le festività più importanti dell'anno, l'Epifania infatti è appena trascorsa e in questo caso ci aiuteremo, come facciamo spesso con una lettura, per ritrovare, aggiungere messaggi positivi e di speranza all'interno di questo nostro spazio. E questo è uno degli scritti, delle poesie, delle preghiere di Padre Francesco, sgorgata proprio in questi giorni. La leggiamo insieme? Certo. Rallegrati, o Maria, frutto incontaminato creato da Dio, dono di luce per accogliere il seme di Dio. Rallegrati, donna, madre dell'umanità, tenda, rifugio della libertà dei figli. Sì, mi sono accorto dopo averla scritta che c'è una buona sintesi di quello che è Maria perché è stata donna assolutamente nuova, dono totale di Dio che l'ha creata così in un modo incontaminato, immacolata, una donna che non ha seguito la strada di tutte le altre creature, proprio perché aveva una vocazione, una chiamata particolare, molto grande, molto forte, che è quella di essere la madre del Signore, per opera di Dio, il quale attua un concepimento in lei per cui lei sarà chiamata madre di Dio. E questo, rallegrati, è molto bello perché è un riflettere, un accorgersi che Dio ti ama, ti vuole bene, ti sceglie, così come possiamo fare anche per noi cristiani nel momento in cui ci rendiamo conto che è bello essere, esistere, che è bello essere persone facenti parte della Chiesa nel senso, diciamo così, anche un po' ridottivo, ma anche facendo parte della Chiesa che è tutta l'universalità, tutto l'universo che raggruppa anche tutte le altre religioni, perché Cristo è morto per tutti, non è morto solo per i cristiani. Ecco che allora accorgersi di questo diventa un dono anche per noi, per cui anche noi dobbiamo rallegrarci di questa gioia interiore, di questo dono che Dio ha fatto ciascuno di noi. Tornando a parlare di Maria, ecco, rallegrati donna, donna, proprio il concetto straordinario di donna, lei che è sotto la croce, immobile, entrisa profondamente nel dolore partecipativo del figlio santo, che non ha meritato assolutamente di essere ucciso in quel modo né in altro modo. E quindi in quel momento c'è la consegna. Gesù guarda la madre e dice, donna, ecco tuo figlio, poi guarda Giovanni e dice, ecco tua madre. Qui viene uno sposalizio tra Maria Santissima e tutta l'umanità, o comunque con tutti coloro che fanno parte della chiesa. E poi, ultimo concetto, è proprio che la Madonna, che è stata per nove mesi la tenda che ha accolto Gesù, quando era nel suo grembo, diventa nel medesimo tempo un rifugio delle libertà dei suoi figli, di tutti coloro che riconoscono lei come madre e che quindi di conseguenza sono suoi figli. E la tenda ci riporta proprio alle tende di Cristo che ormai sono, come dicevamo, diffuse in tutto il mondo e che accolgono, allargano le braccia per tutti. Certamente sì, la tenda è anche quella del popolo ebreo che, vivendo per 40 anni nelle tende, dall'Egitto fa tutto un cammino per arrivare la terra promessa alla Palestina e questo era il progetto di Dio. Quindi, vivere nelle tende vuol dire accogliere quelli che sono nel bisogno e diventare noi accolitori di queste persone e nei poveri noi troviamo veramente la dimensione di Dio che ci ama. Quindi un punto fisso, un punto di riferimento, però per un percorso in realtà da fare. Abbiamo accoglienza nella tenda per poi uscire dalla tenda e continuare questo cammino verso la riscoperta del Cristo, l'unto di Dio, colui che saprà esprimere profondamente il suo amore per tutta l'umanità. Grazie, ringraziamo fratello Francesco Zambotti, sacerdote, per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.